Prende il via oggi il concorso di idee per inventare lo slogan, il logo e il video che verranno utilizzati dall'amministrazione comunale per promuovere l'immagine della nostra città. Si tratta di un'iniziativa tra le prime in Italia, ha spiegato l'assessore al turismo Maurizio Bucci, che viene lanciata esclusivamente su una pagina Facebook alla quale si potranno inviare le proposte e sul sito inventotrieste.it dove si potranno vedere tutte le ideazioni attinenti alle tre categorie del concorso. Le altre città non hanno fatto questo, noi abbiamo voluto spingere con sistemi telematici che oggi ci sono a disposizione, la rete ci consente di far parlare della nostra città a livello gratuito. Siamo convinti che questa sarà una grande opportunità a costo zero, continua Bucci, e ringrazio i nostri collaboratori e partner, tra cui Delex per la costruzione del sito e Trieste Prima, che è Media Partner, che ci aiutano in questo concorso innovativo. Vendere la città vuol dire avere un marchio da proporre e da ovviamente vendere, un marchio slogan è uno spot pubblicitario video, è un'iniziativa davvero entusiasmante, abbiamo scelto la rete, quindi tutti potranno partecipare a questo concorso, girerà in rete l'immagine della nostra città, siamo convinti che avremo una grande partecipazione, quindi avremo tanti progetti, sarà un'opportunità davvero bella, dobbiamo farlo perché la città di Trieste lo merita, ormai è diventata una città turistica, ha bisogno di uno slogan, ha bisogno di una sua immagine. Un'apposita giuria selezionerà una prima traccia di proposte per ogni categoria e un'ulteriore scrematura avverrà nel corso di un'apposita giornata, aperta a tutta la cittadinanza, in cui anche in base ai mi piace ricevuti su Facebook saranno scelte complessivamente 20 idee innovative per arrivare poi alla selezione finale di tre proposte, una per ogni categoria, in palio ovviamente uno strumento tecnologico. I tre vincitori avranno come premio un tablet, ma la migliore soddisfazione sarà quella di rappresentare l'immagine della propria città. E come si può vedere sul sito c'è già un primo concorrente, in bocca al lupo!